Pittimon, il Pittimon, sembra un Pokémon ma non lo è. Il Pittimon è una Pittima come dice il nome, sembra un Pokémon ma non lo è. È sicuramente venduto all'interesse, è sicuramente persona apocopia, sembra sempre essere il primo della lista, che gli altri vengono sempre scacciati via. Il Pittimon è sempre il primo a portare un grande anello di fiori, per dire lo conoscevo, era il mio più grande amore. Il Pittimon, attenti al P, 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 Pittimissimo, Pittimon.